Musica Salve a tutti ragazzi, sono insieme, ho andato a MCP, oddio e benvenuti in questo nuovo episodio e questo primo episodio di questo nuovo e tatzit in questo primo episodio di Happy Wheels no, di Happy Wheels, che sto dicendo in questo primo episodio della serie dei giochi online allora, come avevo detto nel mio aggiornamento iniziamo con Happy Wheels questo gioco che sono riuscito finalmente a provare e rivedi cominciare a giocare i pulsanti sono spazio per fare un'azione le freccette, shift, ctrl, z va bene cominciamo Jetboy X Extreme ok, vai allora, space start to fly oddio, non vedo una mazza ah, eccolo space start to fly up forward, down backward shift left first ah, ok come in, oddio god sentirete un po' di casino forse è meglio abbassare il suono forse è meglio abbassare il suono un attimo oh mio dio che sta facendo quello non vola più non vola più, perché non voli troia dai vola vola ok, penso sia morto ok, cambiamo livello head shooter perché io voglio il suono ragazzi il problema è che è troppo alto come si abbassa un atomo ok siamo più basso cioè più bassi così non posso mettere se il cuffio è troppo buono head shooter io un poco reloading ok space shoot è la madonna che esagerazione con guango penso quelli siano i colpi ho 15 colpi wow sono pro con guango un pochino dettaglio wow wow ne ho fatti due con un colpo solo sono pro mua mua oddio sto livello mi piace oddio no stronzo vabbè cambiamo livello per non fare sempre lo stesso proviamo invece i livelli questi qua inviati da voi human juice oh my god ok lasciamo perdere ehm very not completed oddio oddio ok ok no ehm gelop alibaba ah voglio il tipo in bicicletta col figlio dietro eccolo qua staccati oh mio dio oh mio dio what the fuck wiii e la madonna oh il cuore sto beccando tutti i livelli di merda comunque impossible spike fall ah questo mi piace nooo sono un idiota allora salto no sono sopra si va avanti nooo ok questo è arrivato better voglio finirlo allora 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 no frena con calma con calma con calma very good no ce la devo fare allora con calma vai piano 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 nooo nooo ok sono arrivato quasi a spider ah superman no spider lol vabbè finivano tutte e due i command scusatemi mi pare normale ok zitti shh dai vai nooo poco vai 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 nooo va fa culo 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 nooo nooo va fa culo che palle allora con calma piano 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 sono un idiota ho detto piano 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 ole vai vai no nooo ah il nostro amico non vuole capire che non deve movire e poi è che gli piace pure movire vai si 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 nooo no per poco no allora allora con calmissima e tranquillitudine come dicono molti vai vai nooo mi devo abbattire nooo no 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 va fa culo allora 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 per piacere con calma non ci agitiamo saltiamo no troppo di là no va fa culo comunque gli piaceva morire assai a questo tizio ma è dono a 99 gli piaceva pure a dono a 99 no troppo di là ve lo dico io ce la farò ce la farò ce la farò vai 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 vaffa culo mmm nye 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 allora con calma con calma ok 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 ma nooo ok allora se freno va indietro ah ok si è la purezza si si ma carina ok salviamo i replay you must be logged ok non mi log non me la tiene ok mi è piaciuto questo gelopter non mi piace è tipo lo stesso nome di quell'altro quindi jack septicize boss uh nonno chuck the fuck no aspettate ok comunque sono rimasto senza parole eeeh wiii che cazzo devo fare sono appena morto dai mi sa che devo usare nonno chuck save me vai no nonno vola no vai no ok allora mi dovevo ricordare come funzionava nonno no vola vola dove cazzo te ne vai no vaffanculo si 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 no corri corri si no 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 vola no non so che vola vaffanculo vai 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 vola corri 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 no sei un idiota vai 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 VOLA! VOLA! NO! Vai! Vai! Oddio! Vai l'anno già! Vai! Vai! Aia! Ok, questo livello comincia a non piacermi molto. Vai! Sì! Senza gambe! Senza gambe! Senza gambe! Dove cazzo te ne vai? Risali sopra! No! Dai! 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 E porca troia! Vaffa culo! Parla di merda! Ok! 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 Vai! No! Non ci credo! Dai! Dai! No! Vaffa culo! Ce la farò! Dai! Sì! Vai! Allora! C'è una mina di merda! Corri! 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 Sì! Con la testa ho toccato! Ho vinto! Allè! Allora! Hello! Ok! Proviamo! Coin sind optional! No! Does it snack bar? Needs bacon! Aspetta una domanda! Ma questo è l'arrivo? Come ci arriva l'arrivo? Dai! Dai! Ma che cacchio è sta roba! Allora! Papà! Dove mi parti oggi? In culo alla balena! Uffa! Che palle! Sembra lì! Eh! Se vuoi andare a guardare la carta a parte paghi tu! Ah! Papà! Cora di spicci! E va a fa culo! Papà! E rompe le palle! Papà! Eeeh! Devi morire! Muori! 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 Sì! Muori! Muori! Devi morire! Oh Dio! Ok! Lasciamo perdere! Hunger Games! Welcome to annual settantesimo Hunger Games! Oh ho 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 ho! 19, 8, 7, 6! Ok! Iniziamo l'Hunger Games! Dove devo andare? Ahia! Cosa dovrei fare? Una domanda eh! Ah! Ah! Oddio ho visto un sacco di sangue volare! Eh! Ah! Scendiamo piano! Vai! Tu chiunque sei! L'uomo in bicicletta! Aia! Torna indietro! Ah! Bisogna andare a vetro marcia qui! Ok! No! Si è incassato nelle sue gambe! Non ci credo! Che cosa stai facendo? Dove vai? Dovi tornare indietro! Vai! Spingi tutta la tua roba di sotto! Ok! Ok! Là c'è un fuoco! Non mi piace! Aia! Ah! Oddio! Guardate dove si è infilato qualcosa! Ah! Oh! Mio Dio! Ah! Dai! Salta! Salta! Eh! Ok! Va fa culo! Cambiamo livello! Allora! Facciamo l'ultimo! Quindi scegliamo bene! Mmm! Bottle Run Pro! Ok! Bottle Run non l'ho mai provati! Level 1! Di 1! Vai! No! 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 Va a far culo! Riproviamo! Vai! Corri! Corri! Vai! Ma poi non li faccio oggi! A bere una birra! Ah! Finalmente! No! 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 no, Luke, no, Luke, no, Luke, no, dove è Luke? Come faccio a mettere, oddio, che cosa stai facendo? Sì, a piedi, sempre un pesce fuor d'acqua, no, ce l'ho riuscito, ho premuto l'ejector, vai, 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 no, 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 comunque, ragazzi, direi che per questo episodio è tutto, riprovo un'altra volta, vai, no, il tuo livello, almeno questo lo riproveremo a vincere, vai, vai, sì, sì, grande, vai, livello 2, oh, god, ok, ragazzi, quindi direi che per questo episodio di Happy Wins è tutto, io vi saluto, da Luke, da Luke e suo padre è tutto, sì, ciao Luke, ti lascio la vaffa a culo, mi stai sul cazzo, vai, 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 sì, sì, no, 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 no,